Grazie a tutti. I tre sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di porto illegale di armi in luogo pubblico e lesioni personali aggravate con l'aggravante di aver commesso i reati con l'utilizzo del metodo mafioso. Dalle indagini svolte in sinergia dai poliziotti della squadra mobile di Bari e dal commissariato di pubblica sicurezza di Bitonto, oltre che da personale del reparto prevenzione crimine, è emerso che i tre arrestati il 29 settembre scorso avevano brutalmente aggredito e percorso sotto la minaccia di due pistole un uomo avulso dalle dinamiche criminali, ma parente di un altro pregiudicato legato a gruppi criminali della zona, solo fine di far arrivare a quest'ultimo un messaggio intimidatorio, attuando in tal modo una vera e propria vendetta trasversale propria delle organizzazioni di stampo mafioso. A rafforzare lo spirito intimidatorio, il gesto di uno degli aggressori che dopo aver bloccato la vittima e prima di percuoterla con violenza, si era scoperto il volto travisato facendosi riconoscere forte dell'assoggettamento e dell'omertà che ciò avrebbe provocato nella persona offesa, dando poi luogo alle percorse e consegnando al contempo alla povera vittima il messaggio da dare al proprio parente. Il tenore del messaggio e le modalità con cui lo stesso è stato consegnato alla vittima costituiscono elementi tali da conferire all'intera vicenda la matrice di un'azione dimostrativa e dal contempo trasversale, tipica, come detto, dei peggiori contesti mafiosi. Le immediate indagini coordinate dalla Procura Distrettuale Antimafia di Bari, conseguenti all'allarmante episodio, hanno permesso di dare luce sugli accadimenti, attribuendo specifiche responsabilità agli autori del gesto e indirizzando verso un uomo ignaro ed avulso alle dinamiche criminali. Le investigazioni proseguono al fine di ben delineare anche il contesto in cui è maturata la decisione della spedizione armata ed evidenziarne i motivi verosibilmente legati al controllo delle attività illecite nel territorio bitontino, dove da anni si contendono il predominio due gruppi criminali. Al termine degli atti di rito, i tre sono stati condotti presso la casa circondariale di Bari.